L'ospedale veterinario San Michele è un ospedale che abbiamo creato circa otto anni fa e questo è un ospedale che mira a fornire dei servizi specialistici fondamentalmente in campo di neurologia, neochirurgia, ortopedia, diagnostica per immagini e molto importante anche il campo di medicina rigenerativa. Questa medicina rigenerativa costituisce per noi un campo sempre crescente, importantissimo, per il quale noi utilizziamo da anni, da molti anni, cellule staminali e non solo, poi integrando a questa terapia anche molti mezzi tecnologicamente avanzati, oltre che la diagnostica per immagini sotto forma di risonanza magnetica, TAC e altri mezzi, e anche altri strumenti che mirano a modificare l'attività biologica dei tessuti in modo tale di favorire dell'attività di queste cerele staminali, come per esempio la TECA. Questa combinazione di più metodologie nella rigenerazione tessutale è un campo nuovo e estremamente interessante. La parte razionale di questa attività di diverse discipline consiste nel riconoscere che quando un tessuto viene sottoposto ad una iperemia attiva possiamo avere un'attività delle cellule staminali che noi forniamo al tessuto, ripetiamo questo concetto, nel tessuto ci sono sempre e comunque già cellule staminali, noi non facciamo altro che incrementare i processi fisiologici già esistenti sotto forma di fornire cellule staminali e ambiente idoneo all'attività di queste cellule. Come abbiamo detto per esempio iperemia attiva che la sperimentazione TECA può produrre nei tessuti.